Buonasera a tutti, siamo davanti al ristorante pizzeria Valdostano di Châtillon e in occasione della festa delle donne 2013 vogliamo vedere cosa sta accadendo, seguitemi. Sì, tutto… Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione 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 Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti